i barbe qui a carbonella hanno il loro fascino ma quelli a gas sono molto comodi usarli è facile e immediato e si può regolare l'intensità del calore della piastra producono inoltre molto meno fumo e sono quindi sfruttabili anche su balconi di un condominio o in giardini con vicini poco tolleranti i prodotti delle migliori marche sono alimentati a metano con il GPL i modelli a GPL sono solitamente di dimensioni più contenute e trasportabili ma hanno lo svantaggio di esaurirsi all'improvviso e hanno costi superiori il metano non è fornito in bombole sostituibili perciò il barbecue funziona solo se collegato alla rete domestica contano infine dimensioni e materiali per la griglia si va dall'acciaio inox alla ceramica fino alla pietra lavica ahimè più costosa ecco i 5 barbecue a gas selezionati da buonoedeconomico.it vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i link per acquistare i prodotti recensiti per approfondimenti consultate il sito buonoedeconomico.it se volete potete iscrivervi al nostro canale youtube numero 5 char broil cast to call 440 un grande barbecue da giardino con zone diverse per cucinare dotato di fuochi in acciaio inox e di accensione elettronica sul coperchio c'è il termometro per tenere sotto controllo la temperatura interna è dotato di uno scalda vivande che consente di tenere in caldo i piatti oppure riscaldare hamburger e panini funziona sia a carbonella sia a gas unendo tra di condizioni e comodità quando serve i due vassoi per carbonella brevettati assicurano una distribuzione uniforme del calore come molti altri prodotti fa sudare un po' per il montaggio soprattutto i meno esperti numero 4 camping gas expert deluxe questo modello ha un design particolarmente simpatico e accattivante la struttura in metallo lo rende solido robusto destinato a durare nel tempo la doppia griglia una per la cottura lenta rende il prodotto versatile la pietra lavica in dotazione permette una cottura dei cibi uniforme e veloce il contenitore per raccogliere il grasso però non è molto capiente né strutturato in modo molto funzionale a causa delle istruzioni troppo sintetiche potreste trovare qualche difficoltà nel montaggio numero 3 camping guns adelaide 3 wd modello molto gradevole ed elegante con il suo carrello in legno e il telo di stoffa nera grazie al diffusore di calore a tenda tutti i cibi sono cotti rapidamente e in modo uniforme ed efficace estrarre il recipiente per il grasso è un'operazione facile e velocissima questo modello si caratterizza anche per la grande solidità che lo rende un prodotto incredibilmente resistente nel tempo potreste incontrare qualche difficoltà nel montaggio anche a causa di istruzioni poco chiare numero 2 weber q 1200 tutti i comfort anche in campeggio è facile da trasportare una volta rinchiuso non occupa troppo spazio le griglie sono abbastanza capiti altrettanto i piani d'appoggio che ruotano di 180 gradi per essere usati come copertura delle griglie quando non in uso o come base per poggiare i piatti le impostazioni di fabbrica prevedono la compatibilità con le piccole ricariche a gas tipiche per il campeggio ma è possibile richiedere gli ugelli compatibili per rendere più versatile il fornello e aumentarne l'autonomia le piastre va detto non sono grandissime né troppo elevate sono le temperature raggiungibili numero 1 so chef saporillo è la versione base del barbecue più saporillo con identica qualità costruttiva ma qualche accessorio in meno i due bruciatori con potenza massima di 7200 watt arroventano il letto di pietre laviche che è parte della dotazione i bruciatori sono in acciaio inossidabile con camere di combustione rivestite da smalto porcellanato a differenza di altri modelli analoghi disponibili sul mercato nella fascia più economica il barbecue saporillo è privo di un ulteriore fornello laterale che sarebbe stato molto utile per tenere il cibo in caldo la nostra guida all'acquisto termina qui se vi siamo stati utili lasciateci un like e iscrivetevi al nostro canale youtube ulteriori notizie approfondimenti sul sito buonoteconomico.it arrivederci a presto ciao